Partiamo da un assunto, quando si effettua una prestazione, il lavoro va pagato, se non ho i soldi, non chiedo la prestazione. Ogni altra spiegazione è chiacchiera e tabacchiera di legno. E allora andiamo alla legge. Dal 2012 gli enti pubblici hanno l'obbligo di pagare persino i fornitori esterni entro 30 giorni dalla prestazione e poi di pubblicare sul sito e farsi certificare del revisore la puntualità nei pagamenti. Ma qui, nel caso degli orchestrali, non ci troviamo nemmeno davanti a fornitori esterni, ma davanti a dipendenti veri e propri, dipendenti saltuari, assunti a tempo, ma dipendenti. E solitamente il limite massimo, entro cui il titolare ha l'obbligo di versare lo stipendio, è il giorno 10 del mese successivo. Entro questa data il pagamento deve pervenire materialmente al lavoratore o al collaboratore e non semplicemente essere disposto. In poche parole, entro il 10 del mese lo stipendio deve essere disponibile sul conto corrente. Ci sono contratti che prevedono un termine differente, ce ne sono alcuni, ad esempio, che fissano il quinto giorno del mese successivo a quello lavorato, mentre altri stabiliscono come termine ultimo per pagare lo stipendio il ventisettesimo giorno dello stesso mese lavorato. Se l'azienda non si attiene alla disposizione del contratto, non applica alcun contratto nazionale, vale che il compenso debba essere corrisposto nel momento in cui la prestazione è stata eseguita. Quindi, se la cadenza di paga è mensile, bisogna ritenere la prestazione e quindi la retribuzione conclusa entro l'ultimo giorno del mese. In parole povere, per il concerto di Capodanno siamo fuori termine rispetto ad una qualunque delle condizioni che prendiamo in considerazione. Ora, ci chiediamo, ma se l'incasso è stato fatto, oltre 20.000 euro, se gli sponsor hanno pagato, oltre 6.000 euro, perché i professori d'orchestra devono quasi lemosinare il loro compenso? Perché devono essere presi per rompiscatole, se chiedono? Certo, c'è un piccolo particolare. Sullo stretto vige il metodo Messina, ti pago quando voglio e se ho voglia. Siamo a Buddaceland. Grazie a tutti.